In questa breve pillola vedremo come aumentare la nitidezza di un'immagine senza lavorare sui parametri della nitidezza in RAW. Come vedete qua ho aperto un'immagine con i dati di base. Vediamo come aumentarli tramite i dettagli, quindi partiamo da questa parte qua che è come se fosse appunto la camera RAW di Photoshop. Entriamo nella parte dettagli, cliccando su rifinitura dettagli, quindi flaggando questa parte qua ci si apre raggio e quantità. Di solito si lavora aumentando un po' un raggio e un po' la quantità. Vedete la differenza fra 0 e l'aumento. Si può portare poi in base anche alla qualità della vostra immagine, al tipo di illuminazione che avete utilizzato ma soprattutto alla qualità del sensore della vostra immagine perché dipende anche da che tipologie di immagini vengono sfornate dalla vostra macchina fotografica compreso chiaramente anche un buon obiettivo macro in questo caso e che sia stato gestito bene nella parte della messa a fuoco. Ok? Quindi sul piano della messa a fuoco. Se non volete aumentare questa nitidezza o magari se volete aumentarla in parte, quindi senza aumentarla troppo, ma io non la aumenterei proprio per farvi vedere cosa possiamo fare con Affinity Photo, vado direttamente cliccando sviluppo, quindi nella persona sviluppo. Ok? Quindi siamo qua, siamo arrivati nella parte dell'immagine da sviluppare. Cliccando Command J o Control J, moltiplichiamo il nostro livello. Lo nominiamo nitidezza. Ok? Andiamo su Filtri, Contrasta, Passa alto, Clicchiamo su Passa alto e ci ritroviamo a questo livello qua. Qua io ho già cliccato in monocromo, ma di default non è monocromo. Cosa vuol dire? Che vi crea un livello con appunto il Passa alto a colori. Io lo mantengo in bianco e nero, anche se la differenza è pochissima, però per essere sicuro voglio i dettagli netti che siano mantenuti in bianco e nero per evitare magari degli eventuali sdoppiamenti. E poi in base alla nostra immagine, vedete che se parto da un raggio zero praticamente è quasi impercettibile, ma se vado verso destra, quindi aumento i pixel, faccio sì che aumenti anche il passo. Vedete così? È troppo. Vi chiederete come devo regolarmi? Allora, regolatevi ad occhio, perché cambia da immagine a immagine. Cambia sia da immagine a immagine, quindi dalla tipologia di nitidezza che ha l'immagine, quindi dalla quantità di dettagli che ci sono all'interno dell'immagine, ma cambia anche dalle dimensioni, perché il numero dei pixel cambia anche in base alle dimensioni della vostra immagine. Quindi quando vi si apre questa finestrella del Passa alto e avete cliccato sul monocromo, voi alzate il raggio fino a che iniziate a vedere i dettagli belli nitidi. E poi non andate oltre. Ecco, io non supererei il 2 in questo caso. Vedete che qua ci sono tutti i dettagli, diciamo tutti quelli che vi interessano, diciamo che la parte è più a fuoco, quelli che non vedete perché sono o leggermente sfocati o in ombra. Quindi tutto ciò che è a fuoco viene ulteriormente migliorato come margini di nitidezza. Quindi se noi andiamo oltre, tendiamo a creare un artefatto e quindi si crea qualcosa di troppo spesso. Vedete che i nostri margini sono spessi, creano delle ombre, non vanno già bene. Se voi andate troppo in basso, non riuscite a dare abbastanza nitidezza. Quindi nel mio caso, con due pixel, mi ritrovo ad avere un buon effetto. Vedete, manca qualcosina meno. Ok, 1.8, ecco. In questo caso io ho la maggior parte dei dettagli nella maniera pulita e netta. Ok, quindi vado su Applica. Una volta che sono andato su Applica, l'effetto nitidezza lo porto, vedete che io vado ad aprire questa parte qua, che è quella della fusione di livello, è il metodo di fusione, fino ad arrivare a sovrapponi o soffusa. Io tengo sovrapponi perché è un po' più netto. Vedete che c'è una leggera differenza con e senza, perché io non sono andato troppo oltre per evitare che appunto la nostra nitidezza diventasse un effetto troppo artefatto, ma se vogliamo aumentarla, non ci basta che fare Command J. Ok, vedete come aumenta? Possiamo quante volte vogliamo aumentare la nostra nitidezza senza andare a toccare la nostra immagine. Quindi noi, la differenza del farlo con Camera Raw è con questo effetto, è che noi qua andiamo ad aggiungere dei livelli che hanno una nitidezza, quindi sono stati creati con un filtro, ma non vanno a rovinare quella che è la nostra immagine. Con Camera Raw, invece, aumentiamo la nitidezza, quindi rischiando di rovinare l'immagine perché intacchiamo i dati. Vi faccio vedere una cosa rapida per fare il prima e il dopo, selezionando tutti insieme, con Shift, tasto destro, raggruppa, lo chiamiamo nitidezza, e guardate, questo è il gruppo, quindi sono quattro livelli. Se io li elimino è così, se lo deseleziono, e se lo seleziono è così. Guardate, deselezionato è così, vi sembrerà addirittura fuori fuoco, se lo seleziono è così. Avevo già fatto qualcosa di simile con Photoshop, volevo farvelo vedere anche con Affinity Photo, è un trucchetto molto rapido che non rovina il nostro file, è velocissimo da fare, non lo intacca, e fa sì che i nostri dettagli, i dettagli della nostra immagine, aumentino notevolmente per quanto vogliamo, quindi aumentando, fate molta attenzione, perché se, per esempio, andiamo a moltiplicare di molto, vedete, qua rischiamo di andare poi, in questo caso, su qualcosa di troppo nitido e rischiamo di rovinarlo, quindi fate attenzione, usatelo responsabilmente, usate responsabilmente questo effetto. Bene, se vi è piaciuto questa piccola pillola, questa breve pillola, mettete un like, condividetelo, aiutatemi a crescere e ci vediamo alla prossima pillola, cibografia. Grazie. Grazie.